È uno dei reggimenti d'esercito più antichi e decorati d'Italia, con una storia che affonda le sue radici nel 1860. Il ventottesimo reggimento Pavia, che dal 1958 si costitui a Pesaro come centro di addestramento reclute, in questi giorni taglia il traguardo di un compleanno importante, quello che dal 2004 lo configura come unico reparto operativo delle Forze Armate deputato alla funzione comunicazione operative. Sabato ha celebrato la sua funzione ventennale nel territorio pesarese con l'amministrazione comunale prefetto che nell'allusfera di Piazza del Popolo hanno consegnato al colonnello Di Leonardo l'attestato di riconoscenza della città. Fui mandato dalla mia catena di comando, lo stato maggiore dell'esercito, nel 2003 insieme a altri ufficiali perché avevamo un pregresso nel settore. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo stilato un programma addestrativo per i militari che dicevo prima anche nel mio discorso, sono tutti addestrazioni diverse, quindi lagunari, paracatutisti, artiglieri e loro li abbiamo fatti diventare quello che sono oggi professionisti della comunicazione, da speaker radiofonici a web designer a operatori audiovisivi, insomma tutto quello che è oggi il mondo della comunicazione operativa e il mondo del ventottesimo reggimento comunicazione operativa è oggi. Come reparto comunicazione operativa il Pavia è deputato del delicato compito di comunicare lo scopo della presenza delle forze multinazionali in tutti gli scenari operativi in cui è impiegato. Dal 2004 ha agito con i propri assetti in Iraq, Afghanistan, Kosovo, Libano, Libia, Uganda, Kuwait, Somalia, Niger e Giordania. E l'ambizione del progetto che adesso ci porta a essere uno dei reggimenti di eccellenza nel mondo nel settore delle comunicazioni operative. Un ringraziamento al comune di Pesaro per aver consegnato questo attestato di benemerenza a una realtà, quella del ventottesimo reggimento Pavia, molto vivace e molto presente in città. Presente sia per quanto riguarda i compiti istituzionali ma vanno anche al di là perché aprono la caserma, fanno sì che i cittadini possano entrare in contatto con questa bellissima realtà. Tra l'altro io sono pesarese da tosione perché ho deciso con la mia famiglia di rimanere qui al di là della progressione di carriera che mi porterà in altra sede. Proprio questa è una testimonianza concreta di quanto io ami questa città, io posso dire la stessa cosa per i miei 550 uomini e donne del reggimento che sono veramente perfettamente integrati nel tessuto sociale, culturale, artistico della città stessa e del territorio marchigiano.